Un incantevole borgo incastonato tra le montagne dell'Appennino Marchigiano, al centro dell'Italia. Questo gioiello, ad un passo dal mare e dalle più importanti città d'arte, è circondato da parchi naturali e imponenti rocche medievali. Qui fa da cornice la tradizione agricola, che regala prodotti di alta qualità. I numerosi musei e i tesori segreti attendono solo di essere scoperti per raccontarvi una storia millenaria. Un luogo autentico nel cuore dell'Italia, ricco di storia, cultura e con affascinanti paesaggi. Venite a vivere la magia di Sassoferrato, dove la storia prende vita e la bellezza delle marche si fonde con la calorosa accoglienza locale. Ti aspettiamo a Sassoferrato. Grazie. 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 Grazie.